In esilio nel mio laboratorio durante questo periodo di cui non diciamo il nome, se no voglio fare un esperimento, condividere con voi un esperimento di storia, di storia non si fanno gli esperimenti, però faccio un brico storia, una considerazione, questo è un metro da colegnano, un metro, che in realtà però sono due, quindi sono due metri, comincio laggiù, vedete, la pompa che mi tiene sempre compagnia, due metri, quindi 200 cm, lo sappiamo benissimo, la considerazione è questa, l'Homo sapiens è comparso sulla Terra 200.000 anni fa, circa, e se ognuno di questi centimetri fossero mille anni, tutto questo è tutto quello che riguarda l'Homo sapiens, questa è tutta la storia dell'Homo sapiens. La considerazione è questa, noi stiamo qui praticamente, qui l'impero romano, egizi, l'impero cinese, gli assidi babilonesi, e quello che fondamentalmente non conosciamo dell'Homo sapiens. Cioè questa è la storia, questa è la pre-storia dell'Homo sapiens. Questa è tutta la storia dell'Homo sapiens. Ecco, e questa è la storia che conosciamo, non del tutto poi, e noi siamo qua giù, siamo un micro spillo che sta qua giù, niente, non siamo niente, siamo la nullità. Considerando che la storia dell'Homo sono una vicina di questi. Salve a tutti.